Perché la sede di SEL diventa lo spazio espositivo con cui anche festeggiare il Natale? Ma perché la politica ha praticato l'astinenza dalla cultura, ha come divorziato dalla cultura e si è illividita, involgarita. La politica ha bisogno di tornare a ragionare di bellezza, ha bisogno di confrontarsi con la coscienza storica, ha bisogno di convocare i saperi, gli specialismi. Di arricchirsi di una dimensione culturale, altrimenti c'è un rumore di fondo incomprensibile, senza pensieri veri e la politica muore così, in una specie di talk show pacchiano che non finisce mai. E in più fare una mostra che sta girando il mondo di poster sul lavoro nella sede di Sinistra Ecologia e Libertà è un altro modo di protestare contro il governo Renzi per lo smantellamento di destra grave che sta accadendo di ciò che resta della cultura e dei diritti nel lavoro, a partire da quel punto fondamentale di civiltà e di bellezza, che era l'articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori. Grazie. Grazie.